In questo tutorial vediamo degli esempi di equazioni logaritmiche. Per risolvere questi esercizi faremo riferimento alla definizione di logaritmo, ossia logaritmo in base a di f di x uguale a b risulta essere equivalente ad f di x uguale a elevato alla b con f di x argomento del logaritmo maggiore di 0. Partiamo da questo primo esempio. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo, risulta essere x. In base a questa proprietà dobbiamo imporre come condizione di esistenza che l'argomento del logaritmo x risulti essere una quantità maggiore di 0. Questo vuol dire che quando andremo a risolvere l'equazione logaritmica possiamo accettare soltanto quantità che verificano la condizione di esistenza, in questo caso x maggiore di 0. Dopo aver impostato la condizione di esistenza andiamo a risolvere l'equazione logaritmica secondo questa proprietà scrivendo f di x dove in questo caso abbiamo x uguale a elevato alla b. a è la base del logaritmo che risulta essere pari a 5 elevato alla b, dove b secondo membro in questo caso risulta essere pari a meno 2. Quello che si ottiene è x uguale 1 fratto 5 alla seconda, ossia un venticinquesimo. Questa soluzione risulta essere una soluzione ammissibile perché risulta essere una quantità maggiore di 0. Vediamo questo secondo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo e dobbiamo imporre come condizione di esistenza che l'argomento del logaritmo x risulti essere maggiore di 0. Una volta che abbiamo impostato questa proprietà andiamo a risolvere l'equazione logaritmica secondo la definizione di logaritmo e andiamo a scrivere f di x, in questo caso l'argomento del logaritmo è x, uguale a alla b. a è la base del logaritmo che è 4 elevato alla b, dove b risulta essere il secondo membro dell'equazione e quindi scrivo elevato alla un mezzo. Utilizzando ora le proprietà dei radicali possiamo scrivere che x risulta essere pari alla radice quadrata di 4. Estraendo la radice quadrata otteniamo x uguale 2. Questa soluzione risulta essere ammissibile in quanto è maggiore di 0. Vediamo quest'altro esempio e risolviamo questa equazione logaritmica. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo e dobbiamo imporre come condizione di esistenza che l'argomento del logaritmo x meno 4 sia una quantità maggiore di 0. Portando meno 4 al secondo membro si ottiene che x deve essere maggiore di 4. Una volta impostata la condizione di esistenza risolviamo l'equazione logaritmica utilizzando la definizione e andiamo a scrivere f di x, in questo caso f di x è pari a x meno 4 uguale a alla b, a in questo caso è pari a 2, risulta essere la base del logaritmo, elevato alla b, b in questo caso è pari a 0. Otteniamo x meno 4 uguale 2 alla 0 che è pari a 1. Portiamo meno 4 al secondo membro, x uguale 4 più 1 e a conti fatti si ottiene x uguale 5. Questa soluzione risulta essere una soluzione ammissibile in quanto risulta essere maggiore di 4. Risolviamo questa equazione logaritmica, come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo e imponiamo come condizione di esistenza che l'argomento x più 102 risulti essere una quantità positiva. Porto ora 102 al secondo membro e si ottiene x maggiore di meno 102. Una volta impostata la condizione di esistenza risolviamo l'equazione logaritmica. Come prima cosa porto 2 al secondo membro e do meno logaritmo di x più 102 uguale meno 2. Moltiplico ora tutte e due membri per meno 1, in questo modo ho logaritmo di x più 102 uguale 2. Una volta che ho scritto il logaritmo in questo modo posso utilizzare la definizione di logaritmo e scrivere f di x, in questo caso f di x è pari a x più 102, ossia l'argomento del logaritmo, uguale a alla b. La base sottintesa del logaritmo risulta essere 10 elevato alla seconda. Svilupo ora questa potenza ed ottengo x più 102 uguale 100. Porto 102 al secondo membro ed ottengo 100 meno 102, ossia meno 2. Questa soluzione risulta essere una soluzione ammissibile in quanto è maggiore di 102. Risolviamo questa quarta equazione. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo e impostiamo come condizione di esistenza che x alla seconda meno 3 risulti essere una quantità maggiore di 0. Ho una disequazione di secondo grado, quindi passo all'equazione associata, x alla seconda meno 3 uguale 0, x alla seconda uguale 3 ed estraendo la radice quadrata di tutte e due i membri si ottiene x uguale più o meno radice di 3. Questo vuol dire che la parabola associata alla disequazione interseca l'asse delle x in due punti, in meno radice di 3 e in radice di 3. Prima di meno radice di 3 e dopo radice di 3 la parabola è positiva. Tra meno radice di 3 e radice di 3 la parabola è negativa. vediamo ora la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di 0 e il maggiore di 0 lo vedo qui e qui, ossia quando x è minore di meno radice di 3 oppure quando x è maggiore di radice di 3. Dopo aver impostato la condizione di esistenza risolviamo l'equazione logarittmica utilizzando la definizione. Devo porre f di x, ossia l'argomento del logaritmo x alla seconda meno 3 uguale a alla b. La base sottintesa di questo logaritmo risulta essere 10 elevato alla b. b in questo caso è 0. Risolvo questa equazione, x alla seconda meno 3 uguale 10 alla 0 ed ottengo 1. Porto meno 3 al secondo membro ed ottengo x alla seconda 3 più 1, ossia 4. Estraggo la radice quadrata ed ottengo x uguale più o meno 2. Devo ora stabilire se questi valori sono soluzioni dell'equazione. Osservo che meno 2 si trova qui e 2 si trova qui e allora vuol dire sono soluzioni entrambi ammissibili in quanto fanno parte del campo di esistenza. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del logaritmo e dobbiamo imporre come condizione di esistenza che l'argomento del logaritmo, ossia 5 quarti x meno 1 risulti essere una quantità positiva. Risolvo ora questa disequazione portando meno 1 al secondo membro, 5 quarti x maggiore di 1. Ora, per semplificare il coefficiente della x, moltiplico tutte e due i membri per 4 quinti. In questo modo semplifico 5 con 5, 4 con 4. Si ottiene così x maggiore di 4 quinti. Una volta che abbiamo impostato la condizione di esistenza, risolviamo l'equazione logaritmica utilizzando la definizione. E allora devo scrivere f di x e in questo caso vado a scrivere 5 quarti x meno 1 uguale a alla b. La base del logaritmo è pari a 2, mentre b risulta essere meno 2. Sviluppo questa potenza, 5 quarti x meno 1 uguale 1 fratto 2 alla 2, ma 2 alla 2 risulta essere pari a 4. Eseguo adesso il minimo comune multiplo a primo e a secondo membro e quindi scrivo 4 a primo e a secondo denominatore. Ottengo 5x meno 4 per 1 e scrivo 4 uguale 1. Semplifico i denominatori ed ora porto meno 4 a secondo membro. Ho così 5x uguale 4 più 1, ossia 5. Divido infine tutte e due membri per 5. In questo modo semplifico il coefficiente della x ed ottengo x uguale 1. Osservo che questa soluzione risulta essere una soluzione ammissibile in quanto è maggiore di 4 quinti. E con questo termino il tutorial su esempi di equazioni logaritmiche.